Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi del Razer Tartarus Pro, una periferica da gaming che potete acquistare su Amazon ad un costo di 79,99€ circa, in questa versione. Poi abbiamo anche una versione più professionale che ha un costo ovviamente più alto. La periferica in questione, come potete vedere, sostituisce in parte tastiera mouse e controller su PC permettendovi di giocare con una sola mano. Avete a disposizione alcuni tasti della tastiera, lo scroller del mouse, lo stick analogico o croce direzionale e i vari pulsanti. Con la mano sinistra, come vedete, avete la possibilità di accedere ai tasti superiori della tastiera. Con il pollice potete invece accedere ai tasti laterali, con l'indice allo scroller del mouse. Quindi con una sola mano avete a disposizione tutti i tasti per giocare o anche lavorare. Ad esempio, durante la navigazione con l'indice potete scrollare di pagine, con questi tasti potete digitare testi e così via dicendo. Naturalmente si tratta di una periferica per lo più da gaming e non per lavoro. Grazie a questa periferica potete giocare con una sola mano, quindi avere tutto a portata di una sola mano. Naturalmente non è consigliabile per i giochi sparatutto, perché comunque negli sparatutto si sa che la precisione è tutto, quindi dovrete avere a disposizione non solo una tastiera completa, ma anche un mouse di un certo livello. Però con i giochi di ruolo funziona veramente bene, perché con questo stick analogico, questa croce direzionale, potete spostare il personaggio. Con questo regolate la camera, con questo attaccate. È davvero molto comodo. I tasti sono 33 in totale, se contiamo i tasti della tastiera, lo scroller e quant'altro. Possono essere programmati attraverso il software Razer e come potete vedere ogni pulsante è retroilluminato. E la cosa bella è che attraverso il software Razer potete personalizzare l'illuminazione dei vari tasti e regolarli a seconda della vostra esigenza. Quindi ad esempio potete associare a questi tasti un certo colore, così li distinguete da altri tasti e così via dicendo. È presente un comodo poggiapolsi, come potete vedere, che permette al polso di stare rilassato e quindi anche durante le lunghe sessioni voi potete giocare tranquillamente senza avvertire dolori al polso e senza ritrovarvi con la tendinite. Ovviamente il poggiapolsi può essere rimosso e regolato in varie angolazioni a seconda della vostra esigenza. Quindi ad esempio potete regolarlo così, potete regolarlo così e così via dicendo. Come vedete con il pollice avete la possibilità di accedere a questo pulsante, a questo e alla croce direzionale o stick analogico. Con tre dita potete regolare diciamo, cioè potete accedere ai vari tasti, mentre con l'indice allo scroller del mouse. Insomma è stato studiato davvero bene perché permette di avere tutte le dita impegnate, completamente la mano sulla periferica ed è estremamente comoda. Ha un costo di 79,99 euro che potrebbe risultare diciamo un po' elevato, però vi posso assicurare che vale fino all'ultimo centesimo speso. Naturalmente se provenite già da periferiche di questo tipo è un conto. Se non avete mai provato una periferica del genere potreste inizialmente riscontrare problemi ad abituarvici. Quindi ve lo dico per esperienza personale perché io provengo da controller, mouse e tastiera, quindi inizialmente ho avuto un po' difficoltà ad associare il fatto che utilizzo solo una mano per giocare. Però una volta che vi siete abituati io vi posso assicurare che è estremamente comodo e non riuscirete più a farne a meno. I tasti sono morbidi alla pressione, sono silenziosi, infatti non sentite nulla, e naturalmente sono meccanici. Però questa versione è composta da una membrana per i singoli tasti. Invece la versione più costosa è praticamente meccanica al 100%, oltre naturalmente a disporre di altre migliorie. Quindi diciamo se volete la versione base che è questa ha un costo di 79,99€ circa e potete trovarla su Amazon tramite il link che vi fornisco nella descrizione di questo video.